non sono tu, no vedo sta arrivando, non è che ci siamo sciolti, però non è che ci sciogliamo sta arrivando il treno, non è che qui, sta arrivando il treno, però vado Emilio parli meglio tu di me, mi sapevi è un delirio, fare un applauso da Emilio perché ragazzi quell'uomo è lì sono felice di essere qui e ci tenevo e poi soprattutto quando mi hanno detto che partirà tutto da Foggio insomma, io la vedo come una grandissima opportunità per avere la nostra città, quindi davvero sono felice di prendere parte a questo evento speriamo di esserci anche i quattro e in prima linea, quindi ben vengano cose di questo genere tutto qua, tutto qua